Sono in stazione da solo, sono proprio da solo in stazione, non c'è nessuno qui E non trovo Vinci, Vinci fino ad un secondo fa era qui, ma non trovo Vinci Vinci dove sei? Cosa? Vedete anche voi? Chi è? È il treno Thomas, ok aspettate Ok, accendiamo la torcia Cerchiamo di vedere meglio Avete visto? È proprio la faccia di Thomas, è Thomas? Cosa ci fa in stazione? Sono da solo qui Si sta trasformando, si sta tras... Dobbiamo scappare, aiuto, aiuto Se volete scoprire quello che è successo, andate a guardare il primo commento Guardate il video